La platano e i guarnieri sono tornati indietro nel tempo, a ricoprire cioè i ruoli. La platano e i guarnieri sono tornati indietro nel tempo, a ricoprire cioè i ruoli di mesi e mesi fa, quando li abbiamo conosciuti per la prima volta, lei dama, lui cavaliere. Ma come abbiamo visto nella puntata andata in onda lunedì 17 settembre, c'è anche un'altra new entry. È Barbara De Santi, che dopo tre anni è tornata in studio. Il suo ritorno è sicuramente stato apprezzato dal pubblico di Canale 5, che l'ha sempre sostenuta ai tempi in cui era protagonista della trasmissione. E ora, a sorpresa, Barbara si ritrova seduta tra le altre dame del trono over. Ovviamente si è già distinta, riuscendo a statenare l'ira di Gemma Galgani non appena fatto il suo ingresso in studio, ma non solo. La De Santi è già pronta a sconvolgere anche la coppia ex coppia formata da Riccardo e Ida. Se ne la puntata.